Accogliendo il ricorso della Procura della Repubblica di Palermo, il Tribunale del Riesame ha ordinato gli arresti domiciliari per il deputato regionale grigentino, esponente dei popolari autonomisti Carmelo Pullara, a cui viene contestato il reato di turbativa d'asta nell'ambito dell'inchiesta denominata Sorella Sanità, che avverte su una serie di presunte legalità che sarebbero state commesse in appalto e fornitura agli ospedali e alle aspe del palermitano. Per la Procura si sarebbero poste in essere corruttele e situazioni di turbativa delle aste. Gli appalti finiti sotto la lente di ingrandimento dei magistrati ammontano a circa 600 milioni di euro. L'operazione giudiziaria, che risale allo scorso maggio, vide finire agli arresti 10 persone. La Guardia di Finanza aveva accertato un presunto giro di mazzette che ruotava intorno alle gare indette dalla centrale unica di committenza della regione siciliana. Tra gli arrestati anche Antonio Candela, 55enne, che era stato nominato coordinatore della struttura regionale per l'emergenza Covid-19 in Sicilia, e l'allora direttore dell'ASP di Trapani, Fabio Damiani. Secondo la Procura della Repubblica, Carmelo Pullara avrebbe cercato di favorire, proprio attraverso Damiani, un'azienda che aveva partecipato ad un appalto da 227 milioni di euro per il servizio di pulizia.